Combattuta! Che partita combattuta! Incredibile! Che intensità! Una partita che poteva finire anche 2-1 per il Milan dopo il pareggio, dopo l'1-1. Il Milan ha spinto tantissimo, aveva proprio una fase dove sembrava vicinissimo al 2-1, invece poi è stato il Napoli a colpire, a chiudere questa partita, una partita veramente incredibile. Innanzitutto però dobbiamo parlare un attimino del Napoli e soprattutto di Spalletti. Spalletti è un mago, è un mago. Io veramente non ho parole, forse alcuni hanno la memoria corta, non si ricordano che poche settimane fa, non parliamo neanche di mesi, poche settimane fa, sembrava veramente la fine del mondo lì a Napoli calcisticamente. C'era una situazione disastrosa, i tifosi erano strarrabbiati con il presidente, avevano anche, o diciamo facevano anche un po' fatica a vendere gli abbonamenti, perché c'era tantissima delusione un Napoli che in una volta ha perso tutta la sua leadership. Cioè tutti i giocatori importanti degli ultimi anni, non solo a livello tecnico, proprio anche a livello di spogliatoio, quelli che si facevano sentire, quello che andavano avanti con il petto largo, tutti questi giocatori sono andati via. In una volta. E Luciano Spalletti è riuscito in pochissimo tempo, non solamente a compensare tutto ciò, a creare una nuova identità. Questa squadra ha personalità, questa squadra ha identità e questa squadra sembra anche di essere più flessibile. Nonostante tutti questi giocatori importanti che hanno lasciato il Napoli, amici io tutto ciò lo reputo veramente impressionante, adesso lo andiamo ad analizzare. Innanzitutto se vi va, iscrivetevi al canale YouTube Giano Sport Italia, dove analizziamo il calcio proprio a 360 gradi. E se vi va, date anche un'occhiata al mio secondo canale interista tedesco, dove oggi è uscito anche il video post partita della mia Inter. Quello è un canale dove parlo proprio da tifoso, dove proprio parlo senza peli sulla lingua, lascio libero le mie emozioni, il calcio è proprio bello anche per questo. Oggi è un po' meno onestamente in quel video, lasciamo stare, è iniziato molto male quel video, ho finito male quel video perché la partita era veramente bruttissima, però diciamo dentro il mio cuore ovviamente c'è, io c'è il cuore da tifoso e perciò sul canale interista tedesco io ragiono, vi porto il video proprio da tifoso. Perciò dateci un'occhiata, tantissimi di voi spesso mi chiedono Giano come mai non parli della tua Inter, cioè amici io ho dedicato un intero canale alla mia Inter ma qui su Giano Sport Italia parliamo di tutte le altre squadre, parliamo anche del calcio estero, però sono due canali secondo me da seguire entrambi per rimanere sempre aggiornati, in generale sul mondo del calcio. Allora parliamo un attimino di questo Napoli, se perdi il tuo capitano, cioè Insigne è andato via, se perdi Mertens e noi sappiamo tutti cosa significa Mertens per questo Napoli, io poche settimane fa sono proprio stato a Napoli per registrare un nuovo episodio per il canale Giano Food, un tedesco assaggia il cibo italiano dove viaggio in tutte le 20 regioni italiane per mangiare, mamma mia, a Napoli il cibo è veramente una cosa incredibile, soprattutto la genovese mi ha colpito, mi ha emozionato, un piatto che viene cucinato 12, 13, 14 ore dove c'è una passione incredibile dietro, comunque non mi voglio adesso allungare, quello che ho visto a Napoli erano tappertutto, cartelli ovviamente di Maradonna, ma anche tantissimi cartelli per dire addio a Tris Mertens, cioè ovunque in città, magliette, quadri, e ho proprio visto quanto sia stato brutto per Napoli di perdere una badira come Mertens, di perdere ovviamente Insigne, di perdere Koulibaly, di perdere Fabian che è andato a Paris Saint-Germain, di perdere anche Ospina, e anche Ospina se non mi sbaglio ha 35 anni, qualcosa del genere, perciò ripeto, tutti questi giocatori sono dei leader, sono stati dei leader importantissimi, e perciò lo reputo così impressionante che Spalletti sia riuscito a dare una identità a questa squadra, ma non solo questo, cioè arrivano dei risultati impressionanti, a San Siro battere il Milan non è da tutti, se non mi sbaglio il Milan da 22-23 partite, in generale era imbattuto, perciò una vittoria contro i campioni d'Italia veramente di peso, inoltre a Roma ha vinto contro la Lazio, l'interista purtroppo so quanto sia difficile vincere a Roma contro la Lazio, lui è riuscito, non ha vinto contro il Liverpool, ha umiliato il Liverpool, che è una cosa ben diversa, incredibile, veramente incredibile, in Champions League hanno vinto due volte, un Napoli anche più profondo, io ho questa sensazione, nell'ultima stagione c'era solo, fra virgolette, Ozyman, Ozyman bellissimo giocatore, nulla da togliere, però adesso mi sembrano ancora più flessibili, anche lì davanti, per esempio Raspadori, ha segnato un gol importante, last minute contro lo Spezia, oggi è entrato Simeone, è entrato, ha tenuto tantissimo il pallone, abbiamo subito visto che lui rappresenta un gioco completamente diverso rispetto a Raspadori, Raspadori è uno che viene piccolo così, cioè si prende la palla, invece Simeone è uno più fisico, uno che ti tiene anche un po' la palla, per esempio il Milan onestamente nel primo tempo aveva messo molto sotto pressione il Napoli, perché non c'era, perché c'era Raspadori lì davanti, e loro hanno giocato con un gegenpressing devastante, e perciò spesso il Napoli era costretto a rispondere con dei lanci lunghi, e Raspadori ovviamente non è quel tipo di giocatore che ti tiene tutti quei palloni, ha avuto un po' di difficoltà, perciò il Milan lì nel primo tempo ha messo veramente molto sotto pressione il Napoli, ma quello che volevo dire è che il Napoli ha ormai diverse opzioni, non è più dipendente solamente da un stile di gioco, e poi ha qualità, per esempio Lobotka e Anguissà rappresentano veramente un bel centrocampo, se poi aggiungiamo anche Zilinski, giocatore molto progressivo, verticale, ma poi sono anche tutti giocatori non solo tecnici, ma che hanno anche una buona resistenza, una resistenza anche al pressing, per esempio Lobotka è proprio uno che lo butti per terra difficilmente, resiste veramente bene, e lo resiste anche molto bene, Quaratscheli, scusate anch'io devo ancora imparare bene il suo nome, che oggi ha guadagnato anche il rigore, un giocatore che punta sempre l'uomo, mette fisico tra di lui e la palla, riesce a farlo e perciò guadagna questo rigore, ma anche lui non è un giocatore solamente tecnico, è un giocatore anche molto molto fisico, quando vediamo le sue gambe fanno paura, cioè sono delle gambe con tanta massa muscolare, dove si vede proprio questo ragazzo a power, ha proprio esplosività nelle gambe, ha forza nelle gambe, perciò spesso, se non mi sbaglio due volte, oggi ha guadagnato anche dei cartellini gialli, dove proprio gli avversari, una volta era Calabria, l'hanno marcato strettissimo, cioè non hanno sbagliato nulla in teoria, ma lui nonostante ciò riesce a girarsi, con questa forza, con questa forza nelle gambe, con questa resistenza alle marcature, un giocatore veramente impressionante, il rigore di Politano onestamente un po' fortunato, molto fortunato, passa sotto il fisico di Maignan, secondo me lui aveva anche un po' paura di tirare questo rigore, perché Maignan nei top 5 campionati europei, ha il miglior numero ricordante il calcio di rigori, nessun portiere in questi top 5 campionati europei, è riuscito a parare così tanti rigori, e perciò ovviamente se devi batterlo contro Maignan, ovviamente anche nella testa ti partono diversi film, e perciò è stato veramente molto molto fortunato in quella azione. Parliamo ancora un attimino dell'1-1 del Milan, sapete che a me piace molto De Keteler, a livello calcistico, a me è un ottimo acquisto, ovviamente un bellissimo giocatore, forse mi rende un po' nostalgico, perché quando io ero piccolo andava molto di moda i trequartista, per esempio in Bundesliga mi piaceva Miku, mi piaceva Diego, mi piacevano proprio questi tipi di calciatori, che ormai non ci sono più, perché quei uoli stanno morendo, cioè ormai non si gioca più con i trequartista puro, ormai si giocano con le mezzale, oppure ci sono gli esterni, che possono fare anche trequartista, che però spesso vengono anche, si spostano anche sulle fasce, oppure i falso nuovi, perciò questo trequartista vero non c'è più, come non c'è neanche più il mediano di una volta, io per esempio sono cresciuto con Mark Van Bomm, i milanisti se lo ricorderanno benissimo, io però me lo ricordo anche bene dai tempi del Bayern Monaco, che aveva solamente il compito di distruggere la partita, a me piaceva, io sono cresciuto con questi calciatori, però mi adatto, e capisco che il calcio cambia, e oggi i uoli cambiano, e perciò è anche giusto che non ci siano più giocatori come una volta, che si adattano, però onestamente a tratti ogni tanto, quando vedo Tecchete Lerch, che è un giocatore molto moderno, molto innovativo, però a tratti come carezza il pallone, come ha gli occhi, cioè lui ha una visione di calcio in Kedib, anche solo uno a uno, tempismo pazzesco, passaggio proprio tra le linee, dove poi entra Teo, e lì si aspetti, se il tempo regge un millisecondo, quella palla non arriva, ma lui c'ha proprio l'occhio, c'ha il tempismo, è un giocatore veramente incredibile, un pochino mi ricordo un po' questi vecchi tempi, dove c'erano questi trequattisti incredibili, anche se ripeto, lui può anche molto bene interpretare il calcio in maniera moderna. Per il Milan dobbiamo anche dire che oggi mancavano tutti gli attaccanti, non c'era Uri G, non c'era Ibrahimovic, non c'era Rebic, non c'era Leao, e perciò tutto sommato, abbastanza impressionante vedere come Giroud copre bene in questo ruolo da attaccante, tanti sicuramente non se lo aspettavano che lui potesse essere ancora così decisivo in questi anni. Comunque, complimenti a Napoli per questa vittoria, vediamo la classifica, Napoli a 17, Atalanta a 17, Odinese a 16, Lazio a 14, Milan a 14, Roma a 13, Inter a 12, Juventus a 10, perciò anch'io da interista non voglio molare, è una Serie A molto aperta, molto competitiva, a livello nazionale, e parliamoci chiaro, la stagione è appena iniziata, anche l'Inter che adesso veramente è in depressione, io ovviamente sto male, non so se stavolta notte posso dormire, proprio ho sofferto, ho sofferto troppo oggi, ancora una volta, proprio con la mancanza di gioco, la mancanza di grinta, lasciamo stare, su Inter a Inter tedesco ne abbiamo già parlato, ma nonostante tutto, non si molla un centimetro, perché sì, è vero, Napoli è il suo primo, però sono solo 5 punti, cosa sono 5 punti quando mancano ancora più di 25 partite, è una stagione ancora lunghissima, è per questo motivo una Serie A veramente molto molto stretta, incredibile, cioè tra la prima e la settima, sono solo 5 punti, addirittura le prime 3 quasi pari, Napoli 17, l'Atalanta 17, l'Udinese 16, tutto molto molto stretto, bellissima, bellissima la Serie A sotto questo punto di vista, fatemi sapere un po' la vostra opinione amici, sempre viva il calcio, iscrivetevi al canale YouTube, e adesso aspetto i vostri commenti.